L'Agbe, l'associazione genitori bambini emopatici, da oggi disporrà di un secondo alloggio destinato proprio alle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemia e tumori solidi ed in cura presso l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Il secondo edificio arriva a 13 anni dopo l'inaugurazione del primo ed entrambi si trovano a poche decine di metri dal nosocomio. 43.000 le presenze registrate in casa alloggio dal 2009 con pazienti e relative famiglie provenienti da tutto il mondo. Rendere in realtà questo sogno è stato possibile anche grazie all'aiuto di 30 Ore per la Vita. Noi abbiamo toccato con mano con 30 Ore per la Vita invece una grande partecipazione, un grande desiderio di partecipare attivamente alla realizzazione di progetti. Ogni volta che veniamo qui a Pescara, insomma questo oramai è un sodalizio che va avanti da moltissimi anni. Abbiamo cominciato nel 2003 con la realizzazione del primo reparto coematologico pediatrico, poi con la prima residenza che insomma adesso è attiva già da molti anni e adesso appunto la nuova casa. Per cui siamo molto felici e naturalmente insomma speriamo che questo sodalizio continui nel tempo perché Pescara sta diventando veramente un punto di riferimento per tutto il centro sud Italia. La casa in via Corno Grande porterà il nome di una figura di grande rilevanza umana e professionale, ovvero il professor Glauco Torlontano, medico eccellente e uomo di scienza, considerato pioniere dei trapianti di Midollo. E' lui che ha portato avanti il nostro reparto dal 73, non so se tutti lo ricordano, dal 73 è stato il primo che ha fatto il trapianto di Midollo e Ossio qui a Pescara, un centro d'eccellenza. Io approfitto anche della dottoressa Veri per ricordare che abbiamo veramente un centro d'eccellenza. Io che giro tutti gli altri centri, che sto sempre, anzi qui abbiamo anche il presidente della FIA, sicuramente questo centro va rafforzato perché devo dire che questa casa poteva essere pronta già da due anni, un po' per la madre mia, un po' perché abbiamo dovuto dare una grossa mano al reparto e quindi abbiamo dovuto rallentare, però ci tengo a dirla, ce l'abbiamo fatto lo stesso perché noi siamo un'associazione di genitori, un'associazione che vuole bene al territorio, che vuole bene ai nostri bimbi e il nostro reparto è un reparto, ribadisco, d'eccellenza e va supportato.